Musica 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 Cos'e sono queste cose? Musica Musica E di che cosa sono queste? Marina, acqua, sale e pepe Musica Sono un piatto tipico di quale paese? Solo paca Ma si faccio pure attalese? No, è tipica di solo pasta. È una piadina morbida che si chiama votatora, si chiama votatora dal, prende il nome, dal fatto che si gira, si gira, ma esiste qualche piatto simile, a disposizione questo prenotato, state prenotate voi.